L'accreditamento di due linee di ricerca IRCS al Policlinico di Messina è stato il tema al centro di un confronto costruttivo tra il Rettore dell'Università degli Studi di Messina, Cuzzocrea, e il Segretario Generale della CISL di Messina, Librandi, insieme ai Segretari delle Federazioni dei Pensionati, del Pubblico Impiego, dell'Università e dei Medici. Su questa vicenda bisogna avere chiarezza e soprattutto da parte nostra come organizzazione sindacale è fondamentale avere chiarezza su alcuni punti, soprattutto quella della continuità dell'assistenza, della continuità dei diritti garantiti ai lavoratori che operano all'interno del Policlinico, ma soprattutto della continuità assistenziale all'interno di una struttura così importante. Per noi all'interno di questo ragionamento che vede la richiesta di accreditamento all'IRCS ci possono essere delle prospettive anche di garanzia e soprattutto di crescita futura e quindi siamo positivi sotto questo aspetto e vogliamo stare all'interno di un processo che vede un'opportunità per la città e per i giovani ricercatori. Ne è nato un confronto schietto che ha analizzato tutti i possibili scenari con una certezza, quella che la formazione sanitaria resterà in capo all'Università. Confronti, quando sono così, sono sempre costruttivi. Sono confronti molto belli, importanti, costruttivi, mi hanno dato la possibilità di dimostrare l'importanza di questo progetto che non cambia nulla ma migliora lo status del Policlinico laddove riuscissimo ad avere l'accreditamento di due linee di ricerca, la possibilità, come in tantissimi IRCS pubblici, perché parliamo di un accreditamento per un IRCS pubblico dell'Università di Messina e del Policlinico Chetano Martino, porterà certamente dei benefici per i giovani, posti di lavoro, possibilità di collaborazione col mondo della sanità, verifica, attenta da parte dei ministeri preposti perché gli IRCS hanno questa rete e soprattutto un'attenzione anche al piano di resilienza e di ristoro del Governo che, come sapete, alla linea 6 evidenzia importante attività di ricerca.